Leggi da dove ho fatto il segno. Deinde, cum estratum de perfusionis sanguini mixtum est. Sanguis puniceo colore amisso lactius fit. Signori, abbiamo a che fare con i non morti. Nos feratu. Sì, nos feratu. Il non morto, il vampiro. I vampiri attaccano alla gola, dove lasciano due piccole ferite, bianche e rosse al centro. Leggi da dove ho lasciato il segno. Deinde, cum estratum de perfusionis sanguini mixtum est, sanguinis funicium colore amiste laxium est. Signori, abbiamo a che fare con i non morti. No. Nos feratu. Sì, nos feratu. Il non morto. Il vampiro. I vampiri attaccano alla gola, dove lasciano due piccole ferite, bianche e rosso argento. Leggi da dove ho fatto il segno. Deinde, cum extratum de perfusionis sanguini mixtum est, sanguis puniceo colore amisso lactius fit. Signori, abbiamo a che fare con i non morti. Nos feratu. Sì, nos feratu. Il non morto. Il vampiro. I vampiri attaccano alla gola, dove lasciano due piccole ferite, bianche e rosse al centro.